Paura Messi, un tifoso invade campo e, retroscena Bayern PSG. Monaco oltre al danno della cocente eliminazione dalla Champions League, Messi ha rischiato anche la beffa nella notte europea finita indisfatta per il PSG e Monaco contro il Bayern. Capace di incrementare l'1-0 dell'andata vincendo 2-0 anche al ritorno. Ci è mancato veramente poco. La serata di Leo poteva trasformarsi in un incubo. Il brivido è arrivato alla fine del match quando un tifoso ha fatto invasione di campo e a pochi passi dall'argentino è scivolato, rischiando di falciarlo. L'invasore è stato braccato da alcuni steward e uno di loro ha colpito la gamba di Messi mentre tentava il placcaggio. Una smorfia di dolore si è palesata sul volto del campione del PSG, che poi si è allontanato senza ripercussioni.